le macchinine colorate e la grande piramide ciao eccoci di nuovo con le nostre amiche le quattro macchinine colorate che stanno costruendo qualcosa di nuovo stanno usando dei cubi blu sapete cos'è un cubo? è un quadrato con tre dimensioni ma non ci sono solo i cubi queste sembrano delle piccole rampe somigliano più a dei triangoli sapete come si chiamano? lasciateci un commento ah ecco il grande camion sta portando altri pezzi nel suo cassone anche il trattore ha alcune forme nel suo rimorchio sembra proprio che tutti stiano aiutando le macchinine anche il magico treno colorato vuole aiutare e sta portando un grande carico di pezzi per la nostra costruzione sui suoi grandi vagoni ciao treno! grazie per l'aiuto adesso la gru aiuterà il camion a mettere i pezzi nel suo cassone ribaltabile così che li possa trasportare anche il trattore è tornato anche il trattore è tornato ed ecco la gru che sta riempiendo il suo rimorchio grazie trattore ma ancora non sappiamo cosa stanno costruendo i camion e le macchinine riuscite ad immaginarlo adesso? anche l'escavatore giallo è venuto ad aiutare i suoi amici com'è bella questa costruzione ciao escavatore guardate come prende i pezzi e li mette al posto giusto c'è anche una barca che viene dal fiume sta portando una nuova parte sapete come si chiama? ed ecco che viene posizionata la parte portata dalla barca ecco abbiamo finito si tratta di una piramide blu siamo stati bravi non trovate? a presto alla prossima puntata per divertirci ancora ciao